C'è un luogo qui a Roma in cui si allevano e si coltivano nuove imprese. Parliamo di Lewis & Labs che si trova alla stazione Termini in Viaggio Litti, un vero e proprio acceleratore di start-up in cui le imprese migliori e le più promettenti vengono selezionate, sostenute e finanziate fino alla definitiva entrata sul mercato. Allora c'è una certa differenza tra incubatore e acceleratore. Incubatore è proprio dove nascono le start-up. L'acceleratore invece siamo noi, che cos'è che facciamo noi? Noi selezioniamo start-up che hanno già un team, magari non sono ancora costituite, però hanno un team e un progetto e le acceleriamo, ovvero le mandiamo sul mercato. Con un programma in circa 5 mesi la start-up viene presa e viene mandata a fatturare, insomma viene lanciata nel mercato attraverso un programma, attraverso un aiuto che diamo a queste start-up, attraverso abbiamo circa 50 advisor, abbiamo un programma di verifica continua, abbiamo delle spinte imprenditoriali e infine connection e network con investitori per poter poi fare i veri fundraising e lanciare e finanziare la start-up nel lancio sul mercato. Un sostegno di che tipo? Economico ma anche magari consigli per stare sul mercato? Questa attività di sostegno, di lancio, in cosa si sostanzia? Sì, diciamo che nei 5 mesi i ragazzi ogni 15 giorni vengono analizzati, viene analizzato l'andamento del progetto e l'aiuto che diamo noi è innanzitutto sicuramente di tipo strategico. Secondo, avendo 50 advisor con diverse esperienze, questi progetti e questi team vengono aiutati proprio nei loro punti magari critici per superare questi punti critici. Ed infine mettiamo delle risorse finanziarie perché senza soldi non si va da nessuna parte e per cui mettiamo i 60.000 euro di cui 30.000 euro cash, il resto in servizi e prendiamo una quota del capitale della start-up. Ci vuole ricordare un po' i numeri di questo esperimento, insomma che qui a Roma è molto innovativo, non solo a Roma. Che numeri avete comunque raccolto da quando siete attivi? Sì, allora noi abbiamo avuto una prima parte dove ci chiamavamo in labs, siamo partiti nel 2010, nel 2012 abbiamo fatto un accordo con la LUIS, oggi ci chiamiamo LUIS in labs, per cui abbiamo anche il sostegno dell'università. Allora i numeri sono molto semplici, un anno fa eravamo in un ufficio qua vicino, eravamo circa in 40, in un anno siamo qui dentro oltre 200 persone, abbiamo circa 30 start-up, abbiamo investito in 22 start-up e abbiamo investito direttamente come holding, noi abbiamo una holding che si chiama L-Venture Group, siamo tra i pochi venture capital quotati al mondo, perché anche questa è una cosa unica, abbiamo varie unicità e poi vi dico, questa unicità insomma che siamo tra i pochi venture capital quotati al mondo e finanziamo gli investimenti in queste start-up. Noi abbiamo investito 2 milioni e mezzo, invece co-investitori, per cui gente che ha investito insieme a noi, per oltre 5 milioni di euro. Per cui in due anni abbiamo raccolto, nelle nostre start-up hanno ricevuto fondi per circa 8 milioni.